Il tema della giustizia è sotto la lente d'ingrandimento della classe politica con il disegno di legge che porta la firma del guardasigilli Carlo Nordio. La proposta però sta incontrando una certa resistenza da parte delle opposizioni. Nel corso dell'appuntamento, che si è tenuto nella sede del partito di Fratelli d'Italia a Napoli, il senatore Sergio Rastrelli ha risposto alle obiezioni sollevate da chi dice che con l'attuazione del DDL Nordio la giustizia venga impoverita. Alcuno strumento nella disponibilità dell'autorità giudiziaria verrà privato o compresso. Il problema è che noi dobbiamo finalmente introdurre nel nostro ordinamento tratti liberali costituzionalmente orientati per una riforma a tutela dei cittadini. Quindi dobbiamo sempre bilanciare le esigenze che riguardano la collettività dalla legittima necessità che l'autorità giudiziaria fino in fondo faccia il proprio dovere. Noi dobbiamo semplicemente fare in modo che una giustizia sempre vaticinata e mai realizzata trovi finalmente una prima applicazione. All'incontro sono intervenuti anche altri membri di Fratelli d'Italia, oltre a diversi avvocati e rappresentanti dei sindacati di categoria. Ascoltiamo le parole del deputato del partito di Giorgia Meloni, Michele Schiano. Una materia importante ma soprattutto è una riforma epocale, una riforma epocale che porta sicuramente alla rivisitazione di tanti argomenti e io dico che riavvicina l'azione della magistratura ai cittadini. Infatti l'annullamento dell'abuso d'ufficio, la limitazione delle intercettazioni e tanti altri provvedimenti che sono previsti in questo decreto nordio porteranno sicuramente ad una riforma epocale ma soprattutto ad una giustizia giusta.